Lo tenevano d'occhio da tempo e dopo un attento servizio di osservazione i carabinieri di Catania lo hanno arrestato. Ai domiciliari è finito un giovane di 25 anni che in casa a San Cristoforo nascondeva sotto il letto 3 kg di marijuana. In città e in provincia è incessante la lotta allo spaccio. Ad Adrano un pregiudicato originario di Vittoria è stato sorpreso dalla polizia con 2 kg di marijuana e 3 pistole. Ieri la polizia di Catania aveva arrestato 6 persone che per conto del clan Santa Paola e Ercolano spacciavano droga a San Giorgio. Nei giorni scorsi i carabinieri avevano sequestrato altri 4 kg di marijuana e scoperto una serra nel quartiere periferico di Librino.